Ragazzi, buona serata a tutti. Allora, serata favorevole per noi, giornata favorevole per noi, l'Inter ha pareggiato, la Lazio ha perso. Se voi ci fate caso, come vi dicevo dopo le semifinali di Coppa Italia, e dopo la finale di Coppa Italia, vi dicevo ragazzi, guardate che comunque le squadre che hanno giocato avranno un piccolo vantaggio rispetto a quelle che non hanno fatto neanche una partita in tre mesi. Infatti, se voi guardate, a parte l'Inter Sassuolo, che comunque Sassuolo aveva giocato domenica, quindi sulle gambe, nelle gambe e nella testa, aveva già una partita per quanto riguarda soprattutto il ritrovare il ritmo partita. Se voi guardate, a parte quella partita, che comunque è logica anche quella, se noi vogliamo, tutte le altre hanno vinto, fatalità, tutte le squadre che hanno giocato prima qualche partita. Se voi guardate, il Milan contro il Lecce, la Juventus, la Bologna, poi trasciamo anche l'Inter contro la Sampdoria, che aveva già giocato comunque in Coppa Italia, poi mettiamo il Napoli, mettiamo l'Atalanta, cioè se voi guardate, alla fine è andata proprio così. Allora, per quanto riguarda l'Atalanta-Lazio, 3-2, io penso che in condizioni normali l'Atalanta non avrebbe mai preso due gol così in casa contro la Lazio, anche se comunque fatalità contro Sassuolo era una cosa, perché comunque è una squadra che, sì, non è che giochi apertamente in una maniera così come gioca l'Atalanta-Sassuolo, però sicuramente lascia più spazio perché comunque non rinuncia ad attaccare. La Lazio invece è una squadra molto più... Io, ragazzi, Simoninzaghi non lo voglio proprio, Simoninzaghi proprio zero, cioè ti potrà far vincere in Italia, ma se noi puntiamo a qualcosa a livello europeo, perché il centrocampo per palleggiare Simoninzaghi ce l'ha, dai, ragazzi, il centrocampo della Lazio è più forte del nostro. Luis Alberto, Lucas Leiva, Savic, in generale, dico, è un centrocampo che sa palleggiare, è inutile dire no, sa palleggiare, quindi una squadra che ha questo centrocampo qui, che potrebbe usufruire di questo centrocampo in maniera migliore, preferisce attendere e ripartire, per me è un centrocampo sprecato, ok? Io ripeto, questa è una mentalità italiana che, a parte la Juventus, a parte in generale, appunto la mentalità Juventus, è proprio un discorso che bisogna cambiare a livello di campionato italiano, se noi vogliamo tornare ai vertici a livello europeo, mondiale, perché poi c'è chi dice, ma noi col catenaccio abbiamo vinto quattro mondiali, sì, ma era un altro calcio, e quindi diciamo che qualsiasi tipo di calcio poteva trionfare, adesso c'è un modo, c'è un modo, ci sono vari modi per vincere, però sicuramente in Europa devi essere propositivo, devi avere te il pallone, devi sapere cosa fare col pallone una volta che ce l'hai, ok? Invece, anche perché io mi ricordo, sin da ragazzino ti insegnano, se tu hai il pallone, l'avversario corre, se tu non hai il pallone, sei te a correre, e quindi stancarti di più, e quindi il gioco del calcio prevede di avere il pallone il più possibile, per questo dico che il calcio è un'altra roba, poi hanno un po' snaturato il gioco del calcio, secondo me questo, perché alla fine contano i risultati, e allora siccome contano di più i risultati, e non come ottenerli, allora ci si chiude dietro e si riparte, Simon Inzaghi fa questo gioco qui, a me non piace, poi magari vincerà anche lo scudetto, però in ottica Champions League, gli allenatori da puntare, ok, sono altri, ok? Non volete Sarri? Io non sto qua a crocifiggerlo, perché comunque secondo me è giusto creare un progetto con lui, ha dei difetti tattici anche lui, perché non sa, diciamo, leggere la partita, sbatte contro il muro, ha dei difetti caratteriali, ma questo lo sapevamo, però comunque, a parte questo, tornando a noi, in condizioni normali l'Atalanta non sarebbe mai andata sotto i due gol, ok? Ma la Lazio, in condizioni normali, una volta andata sopra i due gol, non si sarebbe mai fatta rimontare. Quindi bisogna dire un po' tutto quello che è successo oggi. Ragazzi, è calcio, cioè, veramente sembra calcio estivo, anche perché lo è, ma sembra proprio calcio di preparazione, dove succede di tutto, gol, errori, succede veramente di tutto. Poi ho visto che il ruolo nel quale vedo più incertezza è il portiere, il portiere, ma è logico, perché comunque il portiere è il ruolo nel quale ci vuole più psicologia rispetto agli altri, e tre mesi fermi, insomma, sono abbastanza traumatici. Poi, altra roba, perché ci sono alcuni giocatori che, tra l'altro, attaccanti come Zapata, come Immobile, avranno delle caratteristiche diverse, però hanno una stessa caratteristica. O sono lenti, o sono macchinosi, o sono boi lì in mezzo alla rigore. A me piacciono quelli, magari anche più piccoletti, ma tecnici, ok. Però, Zapata, Immobile, Milik, Mandzukic, cazzo ne so, questi giocatori, Lukaku, questi giocatori qui a me non piacciono. Mi piacciono più un Gabriel Jesus, mi piace più un Mertens, invece che Milik, faccio un esempio, come Falso Nueve. Mi piacciono, mi piace, non so, anche lo stesso Morata potrebbe fare Falso Nueve, faccio un esempio. Mi piacciono questi giocatori qui. Poi, un attaccante vero è Higuain, ad esempio Benzema, sono attaccanti veri, non sono Falso Nueve, però sono anche tecnici, molto tecnici. Ok, non sono fermi, fissi là, sono tecnici, quindi quel tipo di attaccanti mi piacciono. Quelli lì, macchinosi, lenti, che poi, ragazzi, Zapata, Immobile, oggi si sono divorati veramente dei gol allucinanti, Zapata soprattutto. Vabbè, per quanto riguarda il fatto appunto dei cambi, se voi notate, quelli che entrano sono nettamente meno in condizione rispetto a chi è dentro. Perché Muriel e Ilicic, vi faccio due nomi, ma vi potrei citare anche i nostri, quando entravano, che ci sono cinque cambi, quando entravano quelli che erano in panchina, erano fuori in condizione, ma non fisica, mentale. Cioè, non entravano in partita. Muriel e Ilicic ci sono entrati in partita, nel recupero praticamente, che hanno fatto un paio di giocate buone e basta. Però, veramente macchinosi, passaggi sbagliati, tiri sbagliati, calcoli sbagliati, di tutto. E se voi notate, la maggior parte di quelli che partono da panchina non è per una scelta tecnico-tattica, ma per una scelta proprio di preparazione, di prontezza, diciamo. Sono meno pronti rispetto a quelli che partono dall'inizio. Sembra una cosa logica, ma non è così. Perché Muriel, secondo me, in condizioni normali, in condizioni... Cioè, fosse stato al 100%, avrebbe giocato lui al posto di Zapata. Perché animatori come Gasperini, è vero che ha messo molte volte Zapata, però se ha Muriel a disposizione, integro fisicamente e quant'altro, sono sicuro che metterebbe Muriel al posto di Zapata. E non un bisonte lì davanti, ma un giocatore che faccia movimento, senza palla, che non dia punti di riferimento agli avversari e che faccia imbucare quindi anche gli esterni centrocampisti. Derun, secondo me, è il peggiore dell'Atalanta oggi. Ha fatto di tutto, a parte l'autogol, ha veramente sbagliato tante cose. Per quanto riguarda la Lazio, Savic ha fatto un gran gol, però cazzo, gli avete steso il tappetto rosso lì. Però per il resto, Savic è un gran bel giocatore, questo poco mi assicuro, anche se secondo me quel tipo di giocatori con il gioco di Sarri, come Pogba, c'entrano un po' con il centrocampo. Cioè ci vogliono giocatori che, insomma, non devono portare troppo il pallone. Savic e Pogba sono due giocatori, appunto, che portano troppo il pallone, secondo me. Devono giocarla di prima, come può essere un Arthur, ad esempio, che a me, ripeto, non fa entrosesmare, non fa impazzire. Spero, qualora arrivasse, spero, faccia panchina, ma se è vera la notizia che lui chiede 7 milioni di euro l'anno, non 5, lasciatelo lì, per favore, perché poi, ok, la preso valenza, ma quei soldi lì, 7 milioni l'anno, sono 14 lordi l'anno, per un giocatore, boh, ha 23 anni, quello che volete, ma ragazzi, prendiamo Rabiot 7 milioni, prendiamo Arthur 7 milioni, e vediamo Casemiro che ne prende 5, cioè, ragazzi, scusate, vabbè, che poi sia Arthur sia Rabiot non sono sicuri del posto a titolare, perché non danno garanzie, non a livello fisico, ma a livello tecnico-tattico. Arthur si sposerebbe benissimo con il gioco di Sarri, però non è quel giocatore, cioè, non sono tantissimi che possono sposarsi con il gioco di Sarri, ma sono anche più forti di Arthur, faccio un esempio, no? Quindi anche lo stesso Howard, per me è più forte di Arthur, quindi mi prendo Howard, e Arthur mi fa la riserva di Howard, faccio un esempio, no? Quindi, o di Ransi, ecco, giusto per... Come per il resto, partita sì, con 5 gol, però, insomma, alla fine l'Atalanta, quando ha fatto il 3-2, hanno dovuto fare entrambe le squadre una cosa che è il contrario del loro credo, cioè l'Atalanta ha dovuto praticamente difendersi dietro il pallone e la Lazio ha dovuto invece andare a capofitto in avanti, cosa che non è riuscita, come succedeva molte volte con la Juventus di Allegri, che sotto di un gol, sotto di un gol, eravamo abituati ad attendere e ripartire, che non ripartivamo nemmeno, praticamente, e quando eravamo sotto di uno o due gol, dovevamo ribaltare la situazione ed era molto difficile, succedeva perché magari i giocatori dicono cazzo, dobbiamo vincere, come è successo quella volta contro l'Inter, perché sennò perdiamo lo scudetto, ecco, giusto per... Poi, altra cosa, chiudo, le squadre come il Napoli, il Milan, la Lazio, squadre che fanno dell'attendismo e fanno un gioco speculativo, ok, è più facile entrare in condizione, non dico subito, ma più velocemente, squadre che sono abituate ad avere certi meccanismi, triangoli di gioco, a centro campo, certi movimenti a memoria, certi passaggi a memoria e quant'altro, dopo tre mesi è molto più difficile entrare in condizione non solo fisica, non solo tecnica, ma anche mentale, ok, soprattutto mentale, è molto più difficile. Poi, mettiamoci anche che Gasperini, perché poi so i paragoni che fate Gasperini, la Juventus, Sarri, ok, mettiamoci che Gasperini è il quarto anno che fa con l'Atalanta e il primo anno volevano cacciarlo, tanto per dirvi, quattro anni che a parte qualche ritocco di qua e di là fa con gli stessi giocatori, tra l'altro, piccola parentesi oggi, neanche Gomez mi è piaciuto, chiusa parentesi, e i giocatori adatti al suo gioco rispetto magari a un Sarri che oltre tre mesi di sosta, oltre a certi meccanismi che dovrebbe lì far imparare i suoi dopo 4-5 mesi che era quasi riuscito, quasi, non dico quasi, però si stava lavorando, dopo tre mesi comunque non ha una squadra da anni, ok, che lavora con questa squadra qui, a differenza di Gasperini. Comunque, al di là di questo, squadre che giocano in una certa maniera e che cercano di giocare a memoria, è molto più difficile entrare in, diciamo, subito, entrare più velocemente in partita o comunque in stagione, ecco, diciamo così. Anche perché se voi guardate l'Atalanta ha fatto molti gol prima della sosta, ma ne prendeva non tantissimi. Quindi, oggi, se voi guardate, quando attaccava l'Atalanta, quando perdeva palla vi dava la sensazione sempre a me, quantomeno, dava la sensazione sempre di rischiare di prendere gol quando ripartiva la Lazio. Cosa che prima non succedeva, perché i giocatori li piegavano con meno voglia o meno condizione fisica, dite voi, però alla fine questo è. Quindi, le partite iniziali, soprattutto dopo la ripresa, vanno giudicate, sì, ma con le pinze. Ma con le pinze. Come ho fatto io dopo il Bologna, non ho esultato, sbraitato, festeggiato, cose del genere. Hanno detto, ragazzi, ok, però il Bologna, ricordiamoci che il Bologna non giocava tre mesi in una partita, noi ne avevamo già giocate due. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona notte a tutti, sempre comunque fino a fine forzionamento, adesso siamo a più 4 sulla Lazio, più 8 sull'Inter, buona così, e vediamo. Sapete che il mio obiettivo principale è un altro, però siccome facciamo spezzatino questa stagione, prima la Coppa d'Italia è persa, adesso il campionato, quindi ci si può concentrare solo sul campionato, poi ad agosto penseremo alla Champions League. Buona notte a tutti.